Una persona civile deve seguire le regole. E queste sono le mie. Fermi! Non rubo a chi non può permetterselo. E non faccio del male a chi non se lo merita. Mi serve tutto il bottino per il prossimo gol. Un uno come te. Che cosa faresti se fossi al mio posto? Farei fuori appena possibile. Quella più importante è che se dici che fai una cosa e non la fai... Fallo! Ti assicuro che te ne faccio pentire. Ignorina Roger? Non so in cosa sei coinvolto, ma ti serve una che conosca bene il territorio. Levati quei vestiti. Non farmi domande, tanto ti dico solo quello che voglio. Qualcuno mi ha preso qualcosa. Io voglio riprenderti. E tu chi diavolo saresti? Parker. Siamo qui per una rapina e poi useranno quella casa per prendersi. È il colpo che ti sistema. Perciò tu lasci che rubini una cosa e poi vai e gliela freddi. E io prendo la percentuale. Se dico che faccio una cosa, arrivo sempre fino in fondo. Sempre. Come fai a dormire la notte? Non bevo mai caffè dopo le sede. Parker. Dall'8 maggio al cinema. Con Parker puoi volare a Miami. Guarda il film in un cinema the space. Conserva il biglietto e... Vinci! Scopri il regolamento su www.indypictures.it